amici proseguiamo la nostra avventura con il quindicesimo gameplay di Rai Son of Rome io sono Grace nella puntata precedente abbiamo ucciso il secondo figlio di Nerone e è stato un bel episodio devo dire molto combattuto sino alla fine non la devi versare fino all'ultimo momento scoccare adios gli arcieri sono più efficaci contro i due minuti rispetto a singola unità scoccare scoccare attacca agli obiettivi guarda via con studi scoccare 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 in questo episodio mi sa che dobbiamo con battere di brutto ok ok andiamo 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 ok ok Ehi, più di così... ELEFANTE DA GUERRA! CONFERMARTI! GOLPISTIMI! CARCIERI, LA! ADESUNA! CARCIERI, PRIMA CHE POSSIAN QUALTIRE! GUERRIERI, ARRIVANO! ELEFANTE DA GUERRA IN ARRIVO! ELEFANTE DA GUERRA IN ARRIVO! MARIU, ATTACK! ELEFANTE DA GUERRA! OK, OK, PERFECTO! OH! Eh, non la vedo semplici eh! Eroi dei! Questi selvaggi non finiscono mai! Dobbiamo fermarli! ATTACKARE! GUIDERÀ IL CONTRAATTACCO! MI SERVI OGNI UOMO ANCORITO! Sarò io a condurre! Non ce la farete no! Non posso lasciare a te tutta la gloria, giusto? Sono tantissimi ragazzi! Avanziiiiiii! Grande! Sì! 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 Eh... ... queste incazzate li hanno fatto fuori il padre! Ok, ok. Cavolo Ok, tocca a noi allora La riserva della quarta coorte è riunita, ma hanno sfondato le linee, squadre d'assalto girano per la città Tutto chiaro Ok Oh, eccomi No, no Costiamoci da qua Ok, perfetto E anche questo l'abbiamo fatto fuori Diamo un'occhiata in giro prima di aprire il cancello Vediamo un po' di qua Possiamo scendere di qua, vediamo un po' allora se apriamo il cancello cosa ci si prospettano Niente, non possiamo tornare indietro, per schienzo E allora scendiamo giù a spaccargli le chiappe Andiamo, andiamo, andiamo Vediamo se c'è questa giro a cattare Niente Parto ragazzi Dobbiamo aprirci un barco Piteglio si trova dall'altra parte Allora c'è questo che magari ci potrebbe servire C'è il checkpoint qua Ok, vediamo un po' Allora, vediamo un po' Squadra d'assalto La piazziamo qua Gli arcieri li mettiamo le Arcieri, dietro di me Coprita di le spalle Rimozione iniziata Arcieri, copritemi La fortuna, quindi gli arcieri saranno molto al soldo Arcieri, copritemi Ok Andiamo a aiutare i nostri Non ci fanno passare E allora passiamo di qua Arcieri, copritemi Arcieri, copritemi Ok Altri, altri Non ce ne sono più Non ce ne sono più E allora Oh a Betsy! Ok, perfetto. Stai. Dai, vieni per gioco, forse. Ok, se quello non scende, andiamolo a prendere noi. Ok. Non abbiamo più energia. Ecco, infatti, l'avevo appena detto. Allora, proviamo a cambiare le postazioni, allora. Guardiamo un po'. La squadra d'assalto di qua. E gli arcieri di qua. Arcieri! Sulla piattaforma sinistra! La rivoluzione iniziata! Le voce! Vieni qui! Sulla piazza! Sulla piazza! Sulla piazza! Sulla piazza! Meno male, meno male che chiudono un po' Eh, quello lì è cazzoso eh Buona Oggi morirai Eh, sono resistenti, non sono più come prima Assaggia la mia fada I tuoi dei non ti salveranno Ma guarda qui, tutta l'energia mi ha fatto fuori sto bastardo Ma guarda qui, tutta Un'altra scelta Bastia, proseguiamo Roma non cadrà Muoversi Ma guarda qui, tutta l'energia mi ha fatto fuori sto bastardo Ma guarda qui, tutta l'energia mi ha fatto fuori sto bastardo Ma guarda qui, tutta l'energia mi ha fatto fuori sto bastardo Ma guarda qui, tutta l'energia mi ha fatto fuori sto bastardo Ma guarda qui, tutta l'energia mi ha fatto fuori sto bastardo E ma quanti sono, non è possibile C'è, sono tantissime, tutti per tutti Contro di noi, assolutamente Ma guarda qui, tutta l'energia mi ha fatto fuori sto ambito La PSA è passata Ma guarda qui, tutta l'energia mi ha fatto fuori a dare La PSA non è possibile Ma guarda qui, tutta l'energia miهna no 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 dai 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 shuuu no 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 Nooo 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 Cazzarola nooo Non me l'aspettavo ragazzi, non me l'aspettavo proprio Marius, figlio di Roma Alzati C'è ancora tempo Il destino ti attende Guardati intorno Come posso evitare la caduta di Roma? Tutto è perduto Non perdere tempo a strappare i vedo Toglia la testa Boudicca Boudicca Generale Non le tratterremo ancora a lungo Boudicca Signore Signore, non so quanto potremo I dèi non sono con noi Dobbiamo Ripiegare Fuggire È per questo che sei qui Che hai lasciato i tuoi uomini Gli dèi stessi ci hanno invocato E tu vuoi fuggire Dovrei ucciderti io stesso Tu disonori i tuoi uomini Tu disonori me Tu disonori Roma Te lo giuro centurione Roma non cadrà Non oggi Oggi Noi Combatteremo Annuncia ciò che resta della sesta legione Di rinforzare il fianco occidentale Richiama la quinta dei quartieri vecchi Io radunerò la quattordicesima E impegnerò il nemico di fronte al palazzo Va! Tutto chiaro La linea frontale terrà A costo di difenderla da solo Grande Amici Io direi che il quindicesimo episodio della serie di Rise finisce qui Spero che la nostra avventura vi stia piacendo In tal caso se non siete iscritti al canale iscrivetevi Lasciate un bel like e commentate Vi ringrazio per avermi seguito Ci vediamo con il prossimo gameplay Un saluto a tutti da GraceGamer78